Andrò ai mondiali con molta determinazione per arrivare a portare una medaglia d'oro. Sto facendo un duro allenamento e spero tanto di riuscire a salire sul podio. Determinata e con tanta voglia di fare bene, così Michela affronterà i mondiali di box a Chielze in Polonia, in programma dal 10 al 24 aprile. Il mio pronostico è quello di dare il massimo sopra il ring e arrivare alla finale e poi la giocherò tutta me stessa. Nella squadra saremo 8 ragazze, ogni ragazza ha la sua categoria di peso e poi in base ai sorteggi decideranno chi partirà dai quarti, si può partire dai sedicesimi, in base anche a quanto siamo in categoria. Abbiamo deciso di cambiare categoria, faremo i 54 kg, sicuramente sarà dura, faremo un duro lavoro perché per arrivare a 54 bisogna soffrire. Il nostro avversario prima è la bilancia, ma ne sono convinto che lei riuscirà a fare questa categoria e a portare la medaglia d'oro. Michela ha iniziato a fare box a 15 anni, anche se è una passione che ha da sempre. Adesso ha 17 anni e l'amore per i guantoni aumenta di giorno in giorno. Prima di iniziare la box ho fatto tanti sport, tra cui ho fatto calcio, poi da lì ho visto anche mio fratello allenarsi, ho iniziato a guardare molti allenamenti e mi sono dedicata alla box. In attesa dei mondiali, diversi ritiri a cui ha partecipato, spazio anche per un dual match a Parigi, dove ha sfiorato il gradino più alto del podio.